È classico il filone che va in scena al comunale di Scoppito, dove si ripropone il tormentone marzicano-aquilano, più mediatico che calcistico, con vasto spiegamento di forze dell'ordine, ma in realtà il pubblico non è così da derby, almeno quantitativamente. In campo le esigenze non sono speculari, poiché i bianco-verdi possono tenere la posizione, mentre i giallorossi di casa devono vincere e provano a mettere in pratica il loro progetto con un avvio convinto che già al decimo porta Torbidone sul dischetto. Antefatto, fallo di mano sul tiro franco battuto dallo stesso Torbidone, che però è inguardabile dagli 11 metri e grazie ad Avino. Scampato pericolo, essi riparte a pane a Miternina, almeno sino al ventesimo, quando Terriaca gira al lato di pochissimo. Sveglia bianco-verde che suona finalmente, la partita cambia verso già il ventunesimo quando Bittaie tenta un ambizioso pallonetto che non ha però una buona riuscita. Trentacinquesimo ancora Rezzano, ancora pallonetto, ma questa volta è Pollino a colpire, sempre senza successo però. Lupi in palla e dopo pochi secondi matura il vantaggio. Bittaie viene atterrato davanti a Schina ed è rigore. Sul dischetto va Bisegna che è chirurgico e può quindi festeggiare l'1-0. A bozza una reazione la squadra di casa che al 44esimo con Di Ciccio contesta il direttore di gara. Questione di tempismo in realtà e probabilmente Davino ce l'ha e salva. Riflettori sulla ripresa, meno elettrizzante della prima frazione e che propone come primo spunto il terzo tiro dal dischetto della giornata. Impatta la gamba di D'Alessandris con quella di Felli e per il signor Centi ci sono gli estremi per la massima punizione che questa volta Torbidone non sbaglia. 1-1 è il match che torna ad essere tattico e non propone più niente per una buona mezz'ora. Al 35esimo poi un buon Bisegna bussa sul diagonale, maschina risponde presente. Pochi secondi e sempre il numero 10 avezzanese, pennella sul secondo pallo per Moro e gli ometti che si ostacolano, ma il numero 8 va comunque vicinissimo al bersaglio grosso di testa. Finisce così fra numerosi rimpianti bianco-verdi e la consapevolezza che l'11 avezzanese venderà cara la pelle con tutti. Vincenzi D'Angelone, una partita tattica e i punti valevano doppio. Oggi era una partita importante soprattutto per noi perché ci dovevamo ottenere i tre punti, perché tanto specialmente qua in casa che non vinciamo, quindi oggi veramente ci eravamo preparati per dare il massimo e raggiungere i tre punti. Peccato perché col calcio di rigore poteva andare in vantaggio, invece l'abbiamo fallito e puntualmente dopo abbiamo preso il loro gol, siamo stati costretti ad inseguire, però abbiamo avuto la forza e il coraggio e alla fine siamo riusciti ad agguandare il pareggio e se eravamo più attenti nelle ripartenze finali magari potevamo ottenere qualcosa in più, però ancora una volta i ragazzi hanno dato tutto quello che dovevano dare, disputando una grossa prestazione e speriamo che questa vittoria arriva la prima possibile e che un po' la fortuna ci dia anche la mano. Antonello Gallese, allora essa è una partita strana, a strappi, come dire l'avvio non è stato, l'approccio alla partita non è stato ideale per voi? Sì, ma noi sapevamo che la Midernini era una squadra difficile da affrontare, soprattutto in casa loro hanno fatto bene, qui hanno fatto buoni risultati, l'avevamo studiata quindi sapevamo anche che era una squadra difficile da colpire e infatti c'è stato molto equilibrio nel primo tempo rotto da qualche azione individuale, nel secondo tempo un po' per forza di inerzia soprattutto subito il pareggio, noi abbiamo provato a spingere un po' di più, a concedere un po' di più, però purtroppo non ci siamo riusciti.